Buongiorno, possiamo fare due battute sulla questione della cannabis o della legalizzazione? Io quello che devo dire ho già detto, non cambio idea. L'hanno lasciata da solo? Non mi sento solo, queste sono scelte che prima che politiche sono di tipo etico, quindi uno eticamente può sentirsi sempre ben accompagnato, dipende dai punti di vista, non mi sento solo. In realtà addirittura che un dibattito renziano che nasciamo a Renzi ha detto salvi. No, i dibattiti renziani non servono a nulla, questo è un dibattito che serve, è diversa. È un'opinione di Salvini, il segretario è lui, faccia sintesi, io mi adeguo come ho sempre fatto, ma questa è la mia posizione storica, non è la novità. Ma come è una delle priorità in Regione? In Regione assolutamente no, non lo è probabilmente nemmeno a livello nazionale, se non fosse perché nei prossimi giorni a partire da domani si comincia a votare un decreto che si chiama svolta carceri e che sull'argomento ci chiedeva di prendere le posizioni precise. Non è una priorità, però tutto ciò che è politico che passa dal Parlamento è una priorità, secondo me. Ma non esiste a bossi giovanaldi, si chiama fine giovanaldi ed è una legge liberticida, certo è un errore. Io parlo per me, io ho detto molto che la Lega sia proibizionista non l'ho mai saputo. La Lega è un partito che si occupa di polimia del nord e che afferma la questione settentrionale, punto. E sono entrato in Lega per quello, io non sono entrato in Lega né perché volevo fare il vetro clericale né per altri motivi. Quindi questa è la mia posizione personale e la mia posizione resta quella. Io credo che oggi ci sia bisogno ancora di Lega per quello che rappresenta, per quello che rappresenta quelle difficoltà che sta avendo questo Paese e soprattutto quelle difficoltà che si concentrano in questo territorio, punto. Dopodiché ognuno di noi ha le proprie posizioni. Io ricordo un vecchio militante della Lega che un giorno mi disse fatti in fretta a fare la padagna che prima o poi voglio tornare a votare a sinistra. Cioè la Lega nasce per quello, non nasce per questioni ideologiche. Bossi ha sempre detto che la Lega non era né di destra né sinistra, stava sopra, no? E io sono ancora lì, sono fermo con quella Lega lì, sono un po' vecchio. Il passo indietro di Maroni l'ha delusa? Ma io non so neanche quando abbia fatto passi avanti, io con Maroni non ho parlato. No, Maroni non mi delude mai.